ma mi si è stirato il personaggio ma sta leggendo che quindi ci spiega perché legge perché una donna gli uomini non leggono questo è lì vado lo premo vai si parte retromarcia messo madonna che la grafica qual è lo scopo del gioco perché ho sentito di napoletani che parlano ma evitato ma dobbiamo andare tutti insieme immagino dovete raccogliere oggetti e poi dovete prenderli per completare le missioni chi li vendiamo possiamo andarcene via da qua mi fare questo posto in questa zona ci sono mostri che vorranno metterti il pesce del culo ah cosa si dice proprio hai tre giorni per recuperare gli oggetti se non ce la fate mi licenziano come si bisogna andavate qualcuno lo prenda qualcuno lo prenda qualcuno che tasto si prende puoi leggere la qua secondo te senti no non ci sono troppi presenti tu sai leggere ma io vedo tutto nero è vero che la contro luce ma scusa mi hai sbiadito ma non si può leggere dobbiamo premere il tasto destro per usare lo scanner però non ho capito che sei se scannerizza gli oggetti ci dà le informazioni come il valore degli oggetti il nome e vabbè tutte queste cose qua ok c'è la stabile in alto sinistra oh aiuto aiuto entrate qua sabbie mobili no dei do no possiamo resettare la partita e farlo guardate qualcuno forse deve stare indietro per dirvi dovesse dove andate rimango rimango davvero ma che è i cosi gelati hai gelati è che tipo aperto non sta a fa niente quanto dura ma è finita qua c'è è riuscito qualcosa vabbè enter porca ma che cazzo siamo morti possiamo gli animali ragazzi ma che gioco di merda porca mi senti? che gioco di merda è questo? no è l'ordopilota che è successo? ma vincenzo non ha letto che stava andando via la notte raga allora fermi fermi fatemi parlare che vi riassumo allora siamo morti tutti a caso cioè siamo entrati in una stanza è una mitragliatrice esatto non possiamo uscire certo basta sono dei malandrini che si spengono il foso no posso disattivare i miei metti dalla nave è lì che ti ha fatto morire lì lì no ma io non sapevo nemmeno avesse incorporare una torretta ma moriamo di nuovo mi hanno detto anche una cosa dalla chat importante ha detto più rumore facciamo e più arrivano mostri io mi sacrifico sei un grande andiamo vabbè tiremo dritto audio audio ma invece è col tubo ma poi ti puoi venderlo penso la fai a salire? si saltando oh aiuto aprite che è successo? aprite no l'hanno chiuso apri no ma che cazzo immagini che in tre giorni mi hanno trovato una rondella e un pezzo di plastica è pieno di forme di vita aggressive ragazzi allora abbiamo fatto 0 euro su 130 comunque sto cercando di capire come si fa ma non abbiamo neus non abbiamo soldi e chi ti metti sui banconi è per avere supremazia sto sopra oddio chi sembro chi sembro c'è una creatura qua c'è una creatura oh vale 81 monete qui dove? è un'app aia 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 ma che cazzo ma nella base l'avete messa? mi sa che siamo fottuti ma che cazzo è sto gioco insieme non ci separiamo vediamo cosa riusciamo a scoprire ok andiamo nello stesso posto o no? tutti di là bello lì non è che ce ne sono altre c'è main entrance che è lì basta chi entra? io ma non abbiamo torce ah vediamo dai ah qui deve stare la creatrice ah what the fuck no non c'è sempre è random slime ma non lo toccate questo lo ammazzo me ne vado di qua che c'è? c'è lo slime non si vede niente oh ma che bisogna lutare ma fa caccare questo gioco eh c'è lo slime è qua ah carino carino io mi andrei camminate dentro è lentissimo qual è il problema? è questo lo slime penso di sì è lentissimo ma ci stiamo chiudendo dentro qua non c'è un cazzo ci dicono che basta fare oh cazzo vedemi vedemi vuole saltare sulla ringhiera eh ecco si è una volta buona questa accendi quella luce porco dio seguite me e Chris abbiamo le torce c'è qualcosa? lo prendo? lo troppo sta cosa? aspetta come lo troppo Rossella prendilo te oh qui ho sborrato radiazioni aiuto scappiamo venite giù venite giù vediamo portare quello che abbiamo raccolto? si vedete tutto qua vedete tutto qua charge item ah no ma ah ma io ho questo coso qua si ricarica le batterie ragazzi qua c'è un oggetto prendete eh io no che ho la luce portiamo io lo selo e torniamo perché abbiamo le mani piene non vediamo le torce non vediamo un cazzo eh io ho la torcia a metà andiamoci perché poi stiamo senza torcia pure riusciamo un'altra volta o no? perché secondo me crepiamo non so quando chiude sinceramente siamo fuori dicono che di notte sparano i mostri che corrono e ti mangiano un'altra è meglio ma ti prendono in giro su via che tu ci credi pure ho sento qualcosa da abbinare qua vicino oh ok ok ma che se ne vanno qualcuno fuori no ti ricordi che dedo ti no e ma ah ops dobbiamo andare nel pienetà della compagnia per vendere la roba ma ci andiamo dopo tanto ci abbiamo tergine quindi agire dovremmo seguire dedo che c'è che è in contatto con lui sta forte è fighissima un oggetto qua direzione apposta qui è strano vabbè porso stucoso e torno qui dentro facciamo vi perdete se andate da soli c'è una aspetta c'è wedding green un anello chi lo può prendere tanto mezzo giro un anello è grande con altri miei braccio un altro raga abbiamo due anelli da 70 andiamo minchia brook vediamo se riusciamo a vincere il gioco per la prima volta ma guarda che non si vince si tira dritto ancora ma adesso dobbiamo andare al pianeta dei compagni giusto ma intanto finiamo di buttare non so potremmo vendere storto del resto moriamo se cadeva giù chi lo chi vuole tentare non penso facciamo che passiamo dall'altra parte che dici ce lo smegma ma è bloccato mi sa che è bugato nella porta ora è sbagato grazie 2 e 3 Rossella è morta no che è stato di voi due ma è morta e basta si è voluta lanciare c'è qualcosa che non quadra qui c'è un impostore tra noi vabbè ma non buttate per terra ci abbiamo andiamo al ristorante a vendere andiamo nel paese piece bastard di nuovo riprendiamo altra roba possiamo già consegnare dicono che dobbiamo andare adesso se no perdiamo giorno zero ci licenzano a prescindere dobbiamo andare a compagni si andiamo da compagni vabbè proviamo a consegnare per capi come qua c'è altro da fare oltre a vendere penso ah vedi il 77% dice secondo me esce il gigante colossale ci distrugge dalle mura dovete mettere le cose sul cosino e suonare il campanello no mi saprei di mettere oh è come oh che no è niente ora 248 dobbiamo fare ma come scusa ma non si finisce mai di lavorare che bel tempo eh oggi è vero si sta bene no sembra di essere a Milano più che al sud ma poi su questo balcone con la sigaretta stavo frisco aiuto no no sei su una piattaforma salta spostatevi se non lo puoi di bloccare ok what the fuck l'ho trovato di gara qua c'è un c'è no non si può prendere questo è una mina non camminarci sopra ok posso disattivarla se vuoi però stavendo problemi con i comandi al momento cazzo di claude ragazzi donna che tragedia ragazzi guarda lì vedi chi è stato sei stato lì ah sono stata io banger chi sta non ci abbiamo più un euro c'è la mina qua davanti fermi qua davanti qua dio bono dove sono io segui la voce oddio perché lì non si attiva mai ok c'ho una vite gigante secondo me qualcuno ci splode su quella che dici eh cazzo su or etiquetto chiusa aspetta ah ma c'è ma che vabbè ha messo la brocca posso continuare aia no sta tutto rosso Ma ha fatto un sacco di male Comunque posso dire L'abbiamo trovato solo noi Penso dove sono quei coglioni Oh attenti attenti Oh Non mi picchiare Eh io Io sono full Ho preso due cose piccole E una grossa Andiamo Qui c'è la mina Attenti attenti Ok allora dall'altro lato Rispetto alla mina Aspetta andiamo una alla volta Ah qua qua E io non vedo un cazzo Se voi vedete un pochino Ditemi se ok No no noi vediamo Te basta Ok spammate tasso destro Così magari se vediamo ship Oh Oh no Oh cazzo Non capisco niente Prevero il futuro Ho detto quanto sarebbe divertente Se adesso al ritorno affogano come noi Non si può dire che non si vede assolutamente niente C'è zero Andiamo andiamo Ah è vero non si muore Oddio Sono tornato a me Ma si vede adesso Andiamo Oh No è un'altra mappa Oh no 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 Oh sono vivo Ah qua c'è l'acqua Che parte si esce Penso che moriamo Se attraversiamo l'acqua Pici Ci lanciamo dall'altra parte Prova Ok lì Salta salta Mi fa più saltare Eh vabbè È finita No so ragazzi Ciao ragazzi All'acqua tu uccide Ma che cazzo è Venite qua dentro Allora siccome sono il migliore Entro prima Ma è uguale al primo pianeta È un gioco di merda Lasciata Oh vedi Uno stop sign Tillo ancora No Io vi dico zoom Lascia attivo Che cos'è sto coso Che ho visto Che è stato Mi ha ucciso un mostro Però non ho capito Ho visto solo gli occhi E poi sono morti Sto arrivando Mi può fermare È stato un mostro Un mostro Sì è stato il mostro Un mostro di Firenze è stato Parto ragazzi Lasciamo provare una partita Dove ci proviamo un po' di più Sì 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 Ah Oh Cristo È un'ottima partenza What? Ah fuori 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 Ma c'era con me Ecco dove Cristo Bisogna andare Ecco A posto Ah ci ha inviolato la porta Beh gli portiamo questi mostri Ok La porta è chiusa Però è entrato lo stesso No Non volo io Niente Tutto è bene ciò che finisce Come dico sempre Migliori 10 euro Della mia avenita Vero Non d'accordo